Allora ragazzi, dovevo registrare il fact time, però devo ancora organizzare il tutto. Mi è anche arrivato un pacco di Amazon, ammirate. Guardate che bello sto case, ragazzi, un case della madonna. Willy! Willy! Sveglia! Sveglia! Dun 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 dun! Dun 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 dun! Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Dopo una vita siamo finalmente su un fact time. L'ultimo fact che avevo fatto è stato con il signor Zayn e la speciale 500 iscritti ragazzi. Ho fatto un post nella pagina di Facebook dove voi mi avete fatto un bel po' di domande. Già il post spaccava di brutto. L'ho scritto, mentre oggi gli italiani vanno a votare il portafoglio di Rovazzo ogni minuto che passa diventa sempre più pieno, ti chiedo di lasciarmi delle domande per un fact time. Yes ragazzi, avevo messo che accetto anche domande comode. Prima domanda me la chiede Davide Sinatra. Quando smetterai di fare video e ti leverai dai coglioni? Ti voglio bene anche io Davide. Chiersi a parte, cosa pensi di YouTube fa cagare? Ha intenzione di portare delle nuove serie sul canale? Chi è il tuo YouTuber preferito? Mi rispondiamo alla prima. Cosa penso di YouTube fa cagare? Non ho niente contro di lui. Ogni video che pubblica, la maggior parte delle volte, lo guardo. Fa bene a portare questi video, fatto del suo successo subito. Non mi lamentano neanche. In Italia, quanto so io, non c'era nessuno che portava questi contenuti. Ha portato un contenuto diverso, differente. In America già c'erano queste persone. Non ho niente contro YouTube fa cagare. Sì, ho intenzione di portare le nuove serie sul canale. Chi è il mio YouTuber preferito? E' un po' difficile come domanda. Perché io ho una piccola classifica dei miei YouTuber preferiti. Ci dovrei pensare. Sono indeciso perché da una parte c'è Mike Shoshua e dall'altra Gabbo. Non sbaglio, avevo risposto nel fuck precedente a questa domanda. Avevo detto Mike Shoshua e questa volta dico Gabby Square. Prossima domanda è il signor Zeta Maggiore. Qua più toni vorresti sfilare apertamente qualcuno? Crew, YouTuber e in caso chi? Signor Zane vorrebbe far litigare con qualcuno. Sì, c'è non una persona YouTube, ma c'è una crew che vorrei sfilare. Non solo io, ma sarebbe Pastorizia Vis Quella Crew. Che non voglio dire il nome, perché se no mi possono denunciare. Perché voi dovete capire, loro sono persone importanti che hanno 6 iscritti. Ovviamente ci passano qualche iscritto. Noi che gli possiamo dare loro, non gli possiamo dare niente ragazzi. Ma andatevela a piarne il culo. Emanuele Caruso. Qual è il tuo desiderio più grande, oltre quello di lavorare per YouTube? Fin da picco volevo diventare un attore. Però in tempi che sono, guarda, mi piacebbe anche tanto, ma tanto, lavorare per le iene. Questi sono i miei desideri. O fare l'attore, o diventare una iena. Sempre in mondo televisivo, mi affrema molto questo mondo. Per stare sempre in tema lavorativo, scegliamo il signor Giovanni Monechiello. Che mi chiede, se avessi la possibilità di fare film, oltre a YouTube, con quale attore ti piacerebbe recitare? Sei il meglio. Grazie Giovanni. Se intendi attori stranieri, oppure intendi attori italiani. Italiani, veramente, non te lo saprei dire. Però, minchia, stranieri, ce ne sono veramente un casino. Per esempio, Silvestre Stallone. Jesus Stunt, non so se sto pronunciando bene il nome. Vin Diesel, anche, mi piacerebbe. Questi attori di questi film, azione. Questa è una domanda abbastanza seria. Che me la chiede Martina Corso. Mi è capitato di stare a contatto con persone vittime di bullismo. È autolesionista. E la maggior parte delle volte per delle vere è proprio stronzata. Tu cosa ne pensi riguardo a questi due argomenti? Perdona il poema, ma è una domanda abbastanza seria e mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi. Bella fra. Sicuramente autolesionista perché si vede nei video di Anthony Di Francesco. Cazza da parte. Ti rispondo seriamente. Parlando del fatto del bullismo. La scorsa sera ci sono state le iene e c'era un ragazzo che hanno mostrato che si chiamava Pierluigi. Questo ragazzo è stato vittima di un'aggressione da parte di alcuni bulli. E tutte le persone che passavano, perché una volta che è stato preso a legnate questo ragazzo, nessuno lo aiutava. La madre, a ritorno a casa, l'ha visto che era gonfio in faccia. Il ragazzo non glielo voleva dire che è stato attaccato da questi bulli, perché il preside gli aveva detto che risolveva tutto lui, però non doveva dire niente ai genitori. Quel ragazzo però ha avuto dei problemi, perché ovviamente una volta che ti succede una cosa del genere, qualche volta i ragazzi più deboli, ma anche ragazze, hanno paura di uscire Pierluigi, essere marginato e anche deriso, che dopo queste aggressioni che gli sono successe, è cominciato ad impazzire e non esce più da casa se non c'è il papà. Per farvi capire, tutto questo è un'aggressione di bullismo ragazzi, veramente. Quando fate una cosa pensateci. E ovviamente se il ragazzo cambia, anche la famiglia purtroppo si trova a cambiare. Una cosa che mi è rimasta molto impressa in mente è questa. Alla morte dei genitori del ragazzo, Pierluigi che dovrà fare? Con chi resterà? Gli aggressori che sono? Sono solo dei sfigati ragazzi, perché ti fa malata un'altra persona. Non può essere mai superiore. Prossima domanda, Pietro Vitrano. Dormiresti su un comodino? Hai detto anche domande scomode. Penso che non sia comodo dormire su un comodino. Questa persona veniva usata molto da Zoda. E io vorrei continuare a dargli vita, portandolo anche nel mio canale. Richard Benson, pensaci tu a Pietro. Luciano Lucio, elencami 5 cose che odio in assoluto e 5 cose che ami fare. Alla, mi piace giocare alla Playstation, montare video, mi piace uscire con gli amici, mi piace mangiare la pizza. Ah, e mi piace scopar... 5 cose che odio in assoluto... I vippettini, quelli che si sentono famosi solo per 400 like a fotografia. I video di Clash Royale. YouTube, quando veramente non ti fa andare in feed dei video, questa cosa la odio è un casino. E odio anche quando i professori a scuola vengono e ti dicono, ora facciamo il compito a sorpresa. Ah, faccio lui, gatti. Alex, Biondo Depp, tuo idolo preferito è perché hai scelto YouTube. Il mio idolo preferito l'ho detto vabbè poco fa, facciamo... Poco fa ho detto Gabbo, ora dico Mike. Che ho scelto YouTube perché c'è chi cresce col pallone, c'è chi cresce con una console. Io sono quel ragazzo che è cresciuto con una console. Mi sono affassionato molto, ma dico molto, al mondo dei videogiochi. Ero piccolo quando ho cominciato a vedere i video su YouTube. Come un minchione imitava quelli che facevano i video su YouTube, imitando le loro intro. Bella posta che vi ritrovate nel mio canale, oppure... Salve a tutti ragazzi! E' anche arrivato il nuovo momento di entrare nel mondo di YouTube. Lorenzo Mosconi, Lowen. Cosa ti piace e non ti piace di YouTube? Un saluto. Bella Lorenzo. Cosa non mi piace? Che ha diminuito visualizzazioni. Quando non fa prendere mi piace. Quando non manda i video in feed. Questa cosa veramente mi fa incazzare di YouTube. Cosa mi piace? Quando tu riesci su YouTube. Tieni grandi, ma grandi risultati. Che alla fine sono grandissime soddisfazioni per lo YouTuber stesso. Passiamo alla prossima domanda! Kevin Petrucci. Qual è il tuo artista preferito? Preferito non l'ho perché io c'è il periodo che ascolto di più. Quello c'è il periodo che ascolto l'altro. Però vi faccio una piccola classifica. Salmo, Fedez, Missilla. Poi ci sono tutti gli altri. Perché io ascolto quasi tutto il mondo in red. Siamo a mamma. L'ho visto Nico entrare e calarsi. Mattia Carollo che mi chiede. Chi è il tuo YouTuber preferito? Ciao Tony. Bella Mattia. Poco fa ho detto Gabbo. Poi Mike. Dico Zota stavolta. Ragazzi. Cambio sempre. Erika Vitale. Non è una domanda ma scrive. Fact time non ti si caca nessuno. Lo sai Erika che scrivendo questo post. Tu mi hai dato molta importanza. Octi Tegarusco. Non so se l'ho pronunciato bene. Ma scusami Octi. Perché è un cognome abbastanza complicato. Il video più brutto su YouTube che tu abbia mai visto. Di un video vecchissimo. Di Beastar. Parlate un po' con un po' di presunzione. Che secondo me. Flavio Trentalangelo. Anche solo se ho pronunciato questo bene. Cognome. Mi dispiace Flavio casomai. Quanto ti credi buono da 1 a 10? Non ti potrei rispondere io. Perché è scontatissima questa domanda. Perché sappiamo che il 10 è anche poco per questa cosa. Orlando YouTube. Vabbè. Quanto ti manca fare video con il tuo nonnino? Abbastanza Orlando. Mi mancano quei tempi. Sono due domande da Giacomo Giudice. Mentre tu mi rompi i coglioni. Cosa ti piacebbe ricevere a Natale? Mi piacebbe tanto ricevere una bella Xbox One. E poi mi chiede. Ti dico questo. Ti do una serie che per te è scomoda. Va bene. Come domanda scomoda. Richard. Pensaci tu. Coglione. Prossima domanda. Me la chiede una bestia. Un animale ragazzi. Perché lui è un animale. Salvo Militello. Che mi chiede. Cosa significa per te essere uno YouTuber? Bellatoni sei un grande. Grazie Totò. A me personalmente piace essere definito anche da altre persone uno YouTuber. Non mi sento uno di quelli grandi. Lo so che sono uno YouTuber piccolo. Per essere piccolo secondo me ho già fatto un bel po' di cose. E sono felice di quello che ho fatto. Essere uno YouTuber per me che è come se ti dicessi a te com'è per te essere un calciatore. Penso che per te sia un orgoglio essere un calciatore. Perché hai riuscito a fare della tua passione anche un lavoro. È un esempio. Io sto cercando di fare anche della mia passione un futuro lavoro. Non posso azzardare a dire che in futuro diventerò chissà chi. Potrei diventare qualcuno come potrei rimanere quello che sono. Ma alla fine sai mi piace com'è. Anche tuttora mi piace essere uno YouTuber. È definito uno YouTuber. Lorenzo Billiteri. Come va con YouTube? Io ho Tobbe però. Io Tobi forse volevi dire. YouTube non lo so perché non abbiamo un rapporto di amicizia. Con YouTube invece c'è. Facciamo che YouTube per me è un'amicizia. Io sono un tuo amico Lorenzo. Ci sono quei momenti che nell'amicizia non ti puoi lamentare perché va bene. Non hai nessun problema. Però ci sono anche quei momenti dove ci sono delle discussioni. Alla fine tu con gli amici ti puoi riuscire a relazionare. Con YouTube invece no. Quindi è un'amicizia alquanto complicata con YouTube. Chiara Pomara. Non farai mai un video con me? Ovvio quando vuoi io sono sempre disponibile. A parte questo la domanda seria è. Secondo te sarebbe peggio rimanere senza la vista o senza poter parlare? Senza la vista. Per parlare riusci a usare le mani, fare tennis. Non puoi ammirare le bellezze che ti offre questo mondo. Aspetta che ti mostro il c***o che me ne frega. A parte queste cazzate passiamo avanti. Aurora Scaffi Che ne pensi della merdata che ha tornato qualche giorno fa a Rovazzi? Se dopo sta domanda ti sei schifiato dimmi cosa ne pensi del capolavoro di Zoda. Bella fra. Bella Aurora. Proprio merdata non è perché alla fine è carina. Non è brutta. Visto perché sono stato il primo io a seguirmi i cazzi di quelle persone. Si dice che Rovazzi abbia copiato Salmo. Nell'istante Salmo ha copiato Marrakesh. Nell'istante Pachinetti ha commentato a Salmo. Vede se sei difeso a Rovazzi. Direi imitati se sei difeso a Salmo. Quel capolavoro di Zoda vabbè. Zoda non posso parlare ragazzi. E' fantastica. No way. Ha veramente spaccato di brutto. Allora di Yolonne a me come canzone personalmente è piaciuto tanto l'atto 2. La poria veramente era fantastica. Però il mio preferito di Yolonne era il primo. Era una cosa assurda. Il primo era fantastico. Non c'erano parole per descriverlo. Prossima domanda. Carlotta Lopresti. Perché è passato i momenti migliori della tua adolescenza. Speri che queste amicizie continuino. E' possibile affezionarsi in poco tempo a persone di cui non ti saresti aspettato. Se mi è capitato di rendertene conto dopo. 25 domande dopo. Ma vabbè. Vedi ti dà le risposte complete. Allora. Ti saluto perché poi rompi i coglioni. Ciao Carlotta. I migliori momenti della mia adolescenza li ho passati con diverse persone. Ma soprattutto sono 5 ragazzi. Non si sono rovinati questi rapporti di amicizia. Siamo legati tra di noi come dei grandi fratelli separati alla nascita. Che ci siamo rincontrati durante il percorso della nostra vita. Speri che queste amicizie continuino. Io spero di sì. Faccio finta che la vita è come un gioco. Per esempio un gioco come Until Dawn. Che ti tocca prendere delle scelte. Cosa è che cambia però dal gioco. Che nel gioco caso mai sbagli puoi riprovarci. Nella vita no. Quindi dipende le scelte che sia io che noi prendiamo. È possibile affezionarsi in poco tempo a persone di cui non ti saresti aspettato? Sì, è possibile che succeda una cosa del genere. Francesco Cicala. Cosa ne pensi degli scrittori cambi? Bella Toni. Imparata a dire di no. E scritto di cambi? No, spero che cambi no. Luca Provenzano mi chiede. Preferisci auto o moto? No scooter. Perché e quale sceglieresti? Bella zio. Tra tutti e due quale sceglierei? Facciamo che sceglierei l'auto. E per chi esce che sceglieri l'auto te lo dico subito. A me non è la macchina. Riesci a trombare. Questo è il signor Luca Bernengo. Che mi chiede. Pensi che anche dopo il successo potresti avere ugualmente del tempo. Per le persone come me e gli altri sai che ovviamente. Che ti hanno visto crescere? Con sincerità. Pensi che l'amicizia che ci ha reso ciò che siamo. Possa continuare nonostante il successo dei nostri sogni. Comprese il mio. Bella Toni ti voglio bene. Bella Luca ti voglio bene anche io. Tu parli già di successo. Già di elaborare successo e vedi che è una grande ma dico grande parola. Si può avere il tempo anche per le altre persone che alla fine tu tieni. Per chi non lo sapesse Luca vorrebbe diventare un rapper. Sì può continuare Luca ma come ho detto prima Carlotta. E dipende le scelte che una persona intraprende nel corso della sua vita. Dai Luca che diventerai un rapper. Passiamo all'ultima domanda. Me la chiede in privato il signor Borcex. Se avessi saputo dei problemi che sarebbero nati rifaresti ancora il clown prank? Ovvio. Ti farei quello scherzo 850.000 volte. Lo farei ancora più spaventoso di quello che ho fatto. Facendo bene altre 5 persone con me vestite da clown. Abbiamo concluso questo bellissimo fact time ragazzi. Sarà un video un po' lungo però alla fine ci sarà anche un messo in domanda di tutti. Non perdetevi i prossimi video perché saranno veramente EPICI. Chi non lo sapesse a Natale ripatto di nuovo in Spagna. Io vi viaggia. Se il video è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi al canale e passate sulla pagina di Facebook. E come un video trovate sotto la descrizione. E noi ci vediamo. Nel prossimo video. Mi raccomando vi ho tante avvisazioni. E saluta il posto Caradoni. Bella.